cerca e distruggi difendiamo l'obiettivo ottimo pronti al prossimo round cambio squadre cerca e distruggi distruggiamo l'obiettivo ottimo pronti al prossimo round cambio squadre cerca e distruggi difendiamo l'obiettivo attraverso Ottimo! Pronti al prossimo round! Cambio squadre. Cerca e distruggi. Distruggiamo l'obiettivo. Bomba piazzata. Bene. Prepararsi alla prossima battaglia. Cambio squadre. Cerca e distruggi. Difendiamo l'obiettivo. Ok. Tutti in l'o, per la costa dei piedi. Combat piazzata. E' kingdom. E' peace. Grazie. Abdubbi. Sì. Abbiamo perso ma non è finita. Intervallo. Cerca e distruggi. Distruggiamo l'obiettivo. Bomba piazzata. Ottimo, pronti al prossimo round. Cambio squadre. Cerca e distruggi. Difendiamo l'obiettivo. Sì. 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 Grazie a tutti. Complimenti, gente.